In queste occasioni i politici, i media, la stampa, addirittura i social tendono oltre ad alcuni a mettersi in prima fila, facendosi fotografare ai margini dell'accaduto, ad enfatizzare il classico loro contro di noi. Qui stiamo parlando di terrorismo. Quindi la prima domanda è, esiste un loro e loro? Chi siamo? Il punto fondamentale è che chi sono loro da quello che succede possiamo intuirlo, cioè sono quelli che mettono le bombe all'aeroporto di Zaventem o quelli che fanno saltare la metropolitana. Adesso il problema è chi sono costoro. E questa è la questione che le polizie riescono a risolvere sempre meno. A quanto pare, se pensiamo alla polizia belga, come ha funzionato in questi ultimi tempi, tutti la criticano selvaggiamente. Però, a parte tutto, io quello che credo di aver acquisito in queste ultime settimane, riflettendo su quello che è successo a Bruxelles ed intorno, insomma, in tutta questa storia del terrorismo, è che effettivamente l'idea che si tratti di una guerra di religione, mentre io l'ho sempre respinta o l'ho sempre considerata una copertura ideologica, nel senso di dire, beh, noi... In realtà invece è anche questo, cioè è sicuramente una guerra tra stili di vita, orizzonti di valori che confliggono. Il nostro modo di vivere, parliamo di cristiani adesso, si identifica troppo con quello di coloro che hanno fatto le guerre coloniali. Quindi, quando questi, per esempio, loro, questi loro misteriosi ci chiamano i crociati, approfittano di una identificazione tra la cultura occidentale e quella di coloro che li hanno colonizzati, sfruttati, appressi, esclusi adesso dalla circolazione in Schengen, eccetera, eccetera, identificano con questo il cristianesimo. Io credo che sia una cosa, come dire, è importante. Ripeto, non ci ho mai pensato in questi termini, ma sono convinto che quello che è successo nella storia del cristianesimo nei secoli scorsi è la progressiva identificazione del messaggio cristiano con l'Occidente capitalista, razionalizzato, eccetera, eccetera, eccetera. E questi qui lo vedono così. È vero che desiderano godere dei vantaggi dell'appartenenza a questo mondo, però nel frattempo ci guardano come in qualche modo dei nemici, degli esorpatori e soprattutto non condividono i nostri modi di vita, non vogliono vivere così o meglio. Io sono stato sempre stupito dalla quantità di gente che andava, i ragazzi che andavano arrualarsi nell'Isis, non tanto italiani, ma all'inizio venivano soprattutto dall'Inghilterra, per esempio. Io lì ho dei pregiudizi anti-inglesi, probabilmente è vero, e ho sempre pensato che l'Inghilterra, essendo una società ancora duramente classista, dove se si guardano i film di Ken Lodge, per esempio, la gente media sta abbastanza peggio che da noi, in una situazione poi di tensione economica come quella che stiamo vivendo adesso, potesse non spiegare, ma certo dare un'idea del perché tanti ragazzi di provenienza anglosasso e nord Europa andassero a arrualarsi lì, perché il nostro sistema di vita da un lato non garantisce a tutti l'eguaglianza, tanto è vero che in Inghilterra le università prestigiose costano molto più cari che l'università pubblica, e d'altra parte, come dire, non fornisce neanche un sistema di valori in cui credere, nessuno ci crede più. Se andate a parlargli della vita democratica, dell'importanza dei valori europei, avete il coraggio, questi vi ridono in faccia. E di lì poi nasce tutto... come dire, io credo che il cristianesimo dovrebbe, uno, marcare di più la propria differenza dalla tradizione occidentale, che è stato sempre un po' un leitmotiv anche della teologia del Novecento, cioè allontaniamo la rivelazione cristiana dalla metafisica greca, per esempio, quello che pensava anche Heidegger, e poi allontaniamo il messaggio cristiano dalla civiltà, cosiddetta civiltà industriale, occidentale, dai valori... perché questi non funzionano, non funzionano, non hanno mai funzionato tanto e adesso funziona sempre peggio. Io non credo che sia una guerra di religione questa, credo che essenzialmente non sia nemmeno una guerra o uno scontro di civiltà. Mi limito a constatare il fatto che questo è quello che vogliono farci credere, cioè che la realtà mediatizzata, cioè passata al setaccio dall'industria culturale, dal mainstream mediatico, dalla fabbrica dei consensi giornalistica, vorrebbe che tutti noi pensassimo che loro, loro appunto, l'Islam, la civiltà altra rispetto alla nostra, ci ha dichiarato guerra. Vorrebbero in qualche modo che noi ci convincessimo che in atto uno scontro di civiltà appunto, in ragione del quale dobbiamo compattarci, essere consapevoli che il nostro mondo è migliore, più civile rispetto a loro e in questo modo convincerci che il nemico sono loro. Questo è sicuramente quello che la strategia della sincronizzazione delle coscienze ad opera del mainstream mediatico mira a ottenere, non v'è dubbio. Quando a reti unificate, quando tutte le pagine dei giornali di destra, centro e sinistra, ripetono all'unisono l'unica prospettiva, vuol dire che evidentemente in opera una sorta di strategia della sincronizzazione delle coscienze, io la chiamo, oppure anche la strategia classica propria del potere per cui si crea un dissenso funzionale al consenso verso la civiltà di massa. Cioè si orienta al dissenso verso l'Islam, identificato io credo del tutto impropriamente con il terrorismo, di modo che si crei poi per risposta un consenso verso la civiltà detta occidentale, leggi, il fanatismo economico o se volete il terrorismo economico in cui sempre più si identifica il mondo della finanza, del classismo capitalistico e quant'altro. Ecco perché io francamente sempre più mi vado convincendo che a trarre giovamento da questi gesti barbari terroristici, da Charlie Hebdo fino a Bruxelles, ma se andiamo a ritroso a partire dall'11 settembre essenzialmente 2001 con le Twin Towers, in qualche modo a trarre giovamento sono essenzialmente sempre gli stessi e cioè il potere, perché in qualche modo nasconde se stesso. Nesce consolidato quello che vorrei chiamare il partito unico della produzione capitalistica, identificato con la civiltà delle buone maniere occidentali, verso la quale dobbiamo tutti provare un senso di gratitudine perché la civiltà buona contro invece quegli incivili identificati con l'Islam che praticano il terrorismo. Quindi questa è la prima funzione ideologica di questa grande epopea del terrorismo. Vi è poi una seconda connessa alla prima ragione ideologica che consiste essenzialmente in questo. Grazie a questi vili gesti terroristici si crea quella che vorrei chiamare l'opera di distrazione di massa in forza della quale la contraddizione principale cessa di essere nel discorso pubblico quella classista economica, fanatismo finanziario, leggi dello spread e del fiscal compact e così via la reificazione planetaria e diventa l'Islam, il terrorismo identificato con l'Islam. In questo modo si crea una grande distrazione di massa e di più, altro motivo connesso agli altri due, si crea quella che io chiamo l'opera di orizzontalizzazione del conflitto. Cioè il conflitto cessa di essere il conflitto servo-signore ghelianamente alto e basso e diventa un conflitto nell'orizzontalità del rapporto del servo e del capolavoro del potere, capite bene, quando il servo pensa che il suo nemico sia l'altro servo. Quindi il terrorismo si situa anche all'interno della tradizionale lotta di classe, distraendo le masse e di più frammentando la coscienza oppositiva. Non credo poi mi si consenta di dire che siamo al cospetto di una guerra di religioni per il semplice fatto che l'Islam è senz'altro una religione che gode di ottima salute, ma non così il cristianesimo in Occidente. L'Occidente è ormai in preda di quella che Heidegger chiamava la sdivinizzazione, entgötterung. Cioè l'Occidente ormai è totalmente in preda alla morte di Dio, non ha più alcuna credenza nel cristianesimo e nella figura del divino. Il cristianesimo ormai dove resiste, resiste in forma superstite e di più si noti il cristianesimo, non meno dell'Islam, è oggetto di costante demonizzazione da parte del fanatismo economico o anche da parte del monoteismo del mercato, che per un verso diffama l'Islam identificandolo col terrorismo e in maniera convergente diffama il cristianesimo identificandolo con la superstizione o con i preti pedofili, per parlare nel bieco linguaggio giornalistico o ginauge. Per tutte queste ragioni e per molte altre io non credo assolutamente allo scontro di religione, non credo assolutamente che l'Islam sia il nostro nemico naturale, penso anzi che l'Islam proprio come il cristianesimo e come le religioni della trascendenza in generale sia una risorsa simbolica di senso feconda che è in grado di opporre resistenza al dilagare del nichilismo tecnocapitalistico e quindi assolutamente sarebbe un errore improprio e esiziale identificare l'Islam con il terrorismo proprio come identificare il cristianesimo con i preti pedofili o tornando indietro con la crociata. Non dimentichiamo, dico quest'ultima cosa poi magari ci torniamo, che nel quadro di questo nuovo scenario schiusosi col 1989, cioè per dirla con Carl Schmitt c'è sempre bisogno di un nemico. Il nemico prima era il comunista, dopo l'89 non poteva più essere il comunista, dopo Berlino 89 non può più essere il comunista, il nuovo nemico diventa il terrorista.